Grave. 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 Personaggi. Il medico. Il paziente. Il paziente. Il paziente. All'alzarsi del sipario, l'ammalato è a letto. Il medico si affaccia alla porta per entrare. Il paziente. 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 Grazie a tutti. 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 Moderato Marziale. Personaggi. La ragazza. La ragazza. La ragazza. E il carabiniere, suo fidanzato, passano in fretta. Arrestata? Arrestata? La ragazza. 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 La ragazza.